Il castello del Valentino 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 Passando a Torino Click, l'agenzia quotidiana che trovate in formato PDF sulla nostra home page, abbiamo scelto due notizie dall'edizione che i colleghi dell'ufficio stampa hanno pubblicato ieri sera intorno alle 19. Il castello del Valentino Il castello del Valentino Il castello del Valentino Il castello del Valentino Si tratta del convegno Torino Certifica Online che si terrà domani alle 9 presso la GAM, un convegno in cui verranno illustrati i servizi e le certificazioni online disponibili per i cittadini e per i professionisti. Trovate le informazioni per partecipare a partire dalla notizia. Il castello del Valentino Il castello del Valentino Il castello del Valentino